Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Caimi qui con voi per l'analisi tecnica, l'analisi ciclica dei mercati finanziari e delle criptovalute. Iniziamo il lunedì con il video più importante di tutti, il video che guida la community Trading On ma anche tantissimi trader ormai in Italia relativamente a quello che è l'analisi di natura tecnica dei mercati e delle criptovalute e l'analisi anche ciclica. Oggi voglio fare un video completamente diverso dal solito e andiamo a guardare non i soliti grafici relativi al time frame daily che abbiamo visto nella scorsa settimana ma andiamo a guardare il grafico di lungo periodo di Bitcoin. Perché l'analisi di lungo periodo di Bitcoin? In questo momento ragazzi è importante perché è finito il mese di gennaio che è stato assolutamente uno dei mesi più importanti degli ultimi 7-8 dei mercati delle criptovalute, ve lo farò vedere all'interno di questo video, ma a parte Bitcoin alla fine del video guarderemo anche Ethereum ragazzi perché Ethereum ha dato un bel segnale spingendo anche moltissime altcoin a dare buoni risultati e soprattutto a iniziare un trend che potrebbe nel corso delle prossime settimane dare grandi soddisfazioni a tantissimi trader. C'è una news che però volevo darvi in anteprima perché nell'Academy Premium stiamo facendo un nuovo esperimento in questa settimana. Apriremo uno dei miei trading system, quello di medio periodo che fa 1-2 operazioni massimo al mese e lo daremo disponibile a tutti gli iscritti dell'Academy in maniera automatizzata ragazzi. È la prima volta che facciamo un esperimento del genere, quindi tutti gli iscritti in Academy avranno la possibilità in beta test di fare questo esperimento, cioè far attivare dei sistemi di automazione, un trading system che ha dato ottimi risultati quest'anno, di crearlo in maniera automatizzata, di collegarlo, diciamo così, quindi un po' come i Lego, i classici Lego come sempre, quindi attaccarlo al proprio conto di Binance e Bitfinex. Questa è un'evoluzione ragazzi dell'Academy, dei servizi presenti nell'Academy, una cosa su cui sto lavorando da più di un anno perché vi assicuro estremamente complessa, ma sono contentissimo di questo nuovo esperimento. Quindi tutti gli utenti Academy in questo momento sperimenteranno questa nuova possibilità di creare una rendita attraverso un trading system creato appositamente per fare trading tra USD e Bitcoin. E andiamo subito a guardare i grafici, ma prima di fare questo ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto un'altra cosa, lasciatemi nei commenti le vostre idee perché sono sempre molto importanti, io prendo tantissimi spunti da quello che mi scrivete nei commenti, andiamo subito sul grafico, grafico mensile di Bitcoin. Ragazzi allora il grafico in questione è quello di Coinbase perché mi serviva sempre il solito grafico pulito. Questo è un grafico di natura mensile, intanto focalizziamo l'attenzione su questa mese che è quello di gennaio, un mese importantissimo in questo caso ragazzi perché guardate cosa fa, intanto è cambiata in maniera radicale quello che era l'andamento dei mesi scorsi che era totalmente ribassista a livello mensile, sappiamo bene che quando utilizziamo un time frame molto grande come questo del mensile non lo stiamo guardando per fare delle operazioni di trading ma lo stiamo guardando esclusivamente per avere un'idea generale di quello che è il trend di lungo periodo, certamente quindi non nel breve, però guardate qui nei mesi da aprile in poi come era cambiato il trend di Bitcoin da un punto di vista mensile e non c'era stata alcuna reazione. Avevamo avuto nel mese di ottobre questo tipo di candela che aveva fatto sperare in un possibile recupero ma questo recupero non è mai avvenuto, tant'è vero che nei mesi di novembre e dicembre il mercato ha continuato la sua fase discendente. Un'altra particolarità che dobbiamo tenere a mente, guardate come il mercato ha rimbalzato sulla media mobile guardate come ha tenuto indicando in sostanza ragazzi che il trend del mercato criptovalute di Bitcoin nel lungo periodo non era cambiato neanche con questa fase ribassista perché questa fase ribassista aveva dato il via a questo tipo di movimento. La reazione che è avvenuta adesso qui proprio nel mese di gennaio è una reazione chiave ragazzi perché blocca la fase discendente e bloccandola in sostanza dà anche la possibilità di poter vedere questo tipo di atteggiamento questo tipo di atteggiamento è un'inversione di lungo periodo, lungo ragazzi, almeno due anni quindi è una cosa molto importante e tutto avviene dal mese di gennaio questo mese di gennaio che ci ha fatto questa candela splendida, piena, verde, molto importante andiamo a vedere quanto il mercato ha reagito dai minimi di dicembre guardate un po', circa il 50% e soltanto nel mese di gennaio questa candela ragazzi è stata una candela che ha portato circa il 40%, 35-40% di oscillazione sul mercato, di rendimento positivo quindi è stato un ampio sviluppo di trend, molto buono e tra le altre cose mi piace molto perché non è andato in bolla questo era un'altra cosa che volevo farvi capire perché non ha fatto il più 80% classico delle bolle speculative nei mercati delle cripto secondo me il mercato criptovaluto e bitcoin in questo preciso momento storico è abbastanza maturo per poter evitare di ricascare in una bolla speculativa come quella del 2017 che non è produttiva andiamo a guardare il futuro, quello che può succedere da adesso in poi il mese di febbraio è un mese chiave perché ragazzi? perché il mese di febbraio è un mese chiave in quanto deve andare a invertire definitivamente questo trend deve andare a invertire questo trend ribassista in maniera definitiva ora il problema è che il mercato ancora è indeciso su questa cosa oggi siamo al 3 di febbraio e il mercato sta cercando di capire se avrà la forza o meno di superare determinati livelli ora questa cosa potrebbe svilupparsi in due modi va diretto a fare nuovi massimi si crea eoforia come quella che abbiamo visto per esempio qui guardate e si crea un'altra candela di questo tipo quindi una verde piena ancora una volta molto molto ghiotta dal punto di vista di rendimento quello che auspico io e credo che il mercato questa volta voglio un po' riflettere un po' di più per una serie di motivi è che il mercato tenti di fissare questi prezzi diciamo così a 9.500 quindi cosa farà probabilmente cercherà di stare all'interno di questo range potrebbe anche scendere magari fino anche a 8.800-9.000 dollari per poi decidere che magari da un punto di vista in basso di supporto il mercato è molto ferrato e quindi c'ha la forza di continuare a salire una rottura di questo livello ragazzi di questo livello e lo vedete da un punto di vista grafico che sono i 10.000 dollari darà il via ad una rincorsa come solitamente noi conosciamo del mercato che potrebbe spingere a fare questo allora questa è una candela che cambierebbe le sorti del mercato di bitcoin nei prossimi mesi in particolar modo dobbiamo stare attento a due livelli ragazzi dovete proprio monitorarli con gli occhi aperti per capire quello che potrà succedere allora il primo livello è i 10.000 dollari ve l'ho già detto prima che è questo che è il livello che darà il via ad un'eventuale salita dei prezzi quindi 10.000 dollari 9.600-10.000 ragazzi poi il secondo è relativo alla chiusura del mese di febbraio la chiusura del mese di febbraio al di sopra degli 11.000 dollari la chiusura del mese di febbraio se avverrà o di un mensile al di sopra degli 11.000 dollari cambierebbe completamente questo andamento perché ragazzi è vero che noi lo vediamo in questo modo perché stiamo mettendo le candele ma guardate cosa succede se io utilizzo una linea guardate quello che succede se il mercato va su e rompe il livello di 11.000 dollari e lo rompe in chiusura io avrei questo tipo di andamento quindi avremmo un trend definitivamente rialzista vedete dal minimo del 2019 e questo da un punto di vista di andamento di lungo periodo cambierebbe totalmente le sorti di questo mercato da qui agli anni a venire l'altro scoglio infatti sarebbe soltanto questo cioè il massimo della bolla speculativa del 2017 abbiamo capito quanto è importante il mese di febbraio e da un punto di vista di analisi ciclica e analisi tecnica anche quanto il mercato ha bisogno in questi prossimi giorni di prendere le forze per rompere in maniera abbastanza netta i 10.000 dollari e poi gli 11.000 dollari lo farà? c'è di mezzo una chiusura del ciclo mensile che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio perciò in questo caso ragazzi le forze in essere sono veramente veramente in equilibrio è un po' come vedere il classico duello di Star Wars con le spade laser tra orsi e tori ed è quello a cui assisteremo in questo mese di febbraio andiamo a guardare Ethereum per vedere invece quello che ha fatto su Ethereum guardiamo anche la situazione ciclica che è molto simile a quella di Bitcoin così possiamo anche renderci conto di questo allora Ethereum ragazzi ha fatto la sua chiusura del ciclo mensile il 24 di gennaio è partito siamo nella prima fase del nuovo ciclo mensile se questo ciclo sarà rialzista dove potrà fare il massimo? di solito lo fa qui in mezzo ragazzi da un punto di vista di aria temporale quindi ancora ancora Ethereum ha tempo così come Bitcoin di fare un nuovo massimo dove potrebbe farlo? magari a ridosso della resistenza dei 200 dollari perché potrebbe tentare di fare questo ragazzi ok? e poi andare in chiusura del ciclo mensile perché intorno ai 200 dollari sappiamo che è uno spartiacco enorme per Ethereum è una delle più importanti aree di resistenza per la regina delle criptovalute in questa fase perché corrisponde a questi livelli poi soltanto sopra 225 cambierebbe proprio il trend di lungo periodo però c'è anche da dire ragazzi guardate che bel trend che ha fatto Ethereum bello disegnato pulito elegante ha rotto anche la media mobile a 200 periodi in questo momento dichiarando che la fase di trend ribassista è finita e che siamo entrati in un trend laterale vedremo se girerà in un trend rialzista si aspetta il golden cross della media mobile a 50 periodi l'unica appunto fase di riflessione che il mercato potrebbe fare è vicino quest'area quindi dal 15 di febbraio in poi perché c'è da chiudere un ciclo mensile ma potrebbe ancora spingere nonostante la giornata di oggi non è assolutamente positiva perché sta facendo una giornata di riflessione ma attenzione attenzione a preoccuparsi ragazzi perché quando un trend inizia se questo è un trend rialzista ovviamente è lungo ancora non lo sappiamo ma quando un trend inizia si sa quando parte ma non si sa quando finisce bene siamo arrivati alla fine di questo video per il lunedì io vi ringrazio e noi ci vediamo in settimana con i prossimi video ciao